Mamma che seppiolona B che stai facendo oggi. Ma questa è gigante e la facciamo ripiena con seppia al nero di seppia con che ci mettiamo spaghetti o tagliatelle? Spaghetti. Adesso è già è già cotta sì più o meno tanto la seppia cuoce subito qui abbiamo messo questi pomodrini e questi anche. Ecco qui che abbiamo messo il nero. Ecco che stiamo annerendo tutto. Stiamo annerendo tutto. E tu dici che a me si mangerebbe qua di questo. Questo colore. Nero di seppia, vero nero di seppia. C'è il vapore e non si vede tanto bene. Così si vede meglio così. Allora adesso due grandi porchette. Ecco quello che è. Ho schierito poco poco la pasta. che cosa hai detto? No. Che cosa hai detto? No. Ed ecco qui la nostra seppia con spaghetti al nero di seppia. Questa l'abbiamo riempita così. Mentre questi adesso li mettiamo nel piatto. Ed ecco che qui tagliamo e mettiamo nel piatto. Ok. Ok. Bene così. Bene così. Questo non si chiude più. Prendi questa e mettetela da te. Ok. Allora. questo è il giocchiano allora va a fare la foto è tagliato, si vede che è tagliato peperagino, adesso prendiamo i spaletti, giriamo ma quando lo sospiciamo faccio vedere l'ultima forchettata peperoncino, questi sono troppi e adesso giriamo no ma così, se no, sono troppe, non ci vanno in bocca carapina l'hai fatti speciali grazie e sono facile, dopo vi metto a descrivere tutta la ricetta che abbiamo fatto noi buon appetito anche voi